Domenica dalle 8 alle 20 si terranno anche Liguria le primarie del Partito Democratico per scegliere il segretario nazionale del PD e i membri dell'Assemblea Nazionale. I candidati in corsa per la segreteria sono Nicola Zingaretti, Maurizio Martina e Roberto Giacchetti. Nell'imperiese fra i collegi alla prima tornata è risultato in vantaggio Zingaretti seguito da Martina e molto più staccato Giacchetti. In tutta la Liguria saranno 235 esige allestiti nelle città, 21 quelli in provincia d'Imperi e alcuni con orario ridotto e apertura soltanto al mattino. Per votare alle primarie è necessario portare con sé la tessera elettorale e la carta d'identità. Possono votare i cittadini che dichiarino di riconoscersi nella proposta politica del PD e che abbiano compiuto 16 anni di età, dai 16 ai 18 anni pre-registrati online entro il 25 febbraio. Al momento del voto sarà richiesto un contributo di 2 euro per le spese organizzative. Nell'imperiese la mozione di Zingaretti vede fra gli altri il sostegno di Giuseppe Antonio De Bonis, Riccardo Giordano e Antonella Albano. Sono invece tra i sostenitori di Martina, Fulvio Vassallo, Giovanni Barbagallo e Giancarlo Manti. Con Giacchetti ci sono infine Roberto Cristaldini e Dania Stocca.